La salute, la salute vi è mangiando, accogliamo come ogni settimana il dottor Salvatore Cusenza nei nostri studi. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, oggi parliamo di ritenzione idrica. Che cos'è soprattutto chi riguarda? Mi sa che riguarda soprattutto noi donne. Sì, fondamentalmente un problema più femminile è la ritenzione idrica, altro non è che il ristagno di liquidi nella parte intestiziale tra le due cellule. Quindi l'acqua va a confluire tra le due cellule, quindi non nella cellula ma al di fuori della cellula. Quindi è un'acqua extracellulare e quindi è quello che poi a lungo andare forma la cellulite, che nella donna è un problema. Però anche l'uomo può avere ritenzione. E si manifesta in alcune zone particolari del corpo? Beh, sicuramente nella donna sì, nelle gambe. Però poi molte volte si vede anche ritenzione in altre parti del corpo. Il problema della ritenzione è fondamentalmente, se non ci sono cause farmacologiche o quant'altro, è dovuta anche a una cattiva idratazione. Perché si sente sempre dire la frase, bevo quasi due litri d'acqua al giorno ma ho sempre questa ritenzione. In realtà non occorrono due litri. Ah sì, sono troppi? No, sono pochi. Sono pochi, addirittura. Il quantitativo di acqua necessaria per idratare bene il corpo è di 50 ml per chilo corporeo. Quindi una persona di 80 kg dovrebbe bere 4 litri di acqua al giorno, più un bicchiere di acqua per ogni caffè che prende. Perché la caffeina è disidratante. Addirittura. Per non parlare poi dell'alcol. Uno pensa, beve tanto, sono idratato. No, in realtà sei solo ubriaco, ma hai perso tanti liquidi. Perché aumenta la produzione di aldosterone che è disidratante. Ma c'è anche l'acqua però che assumiamo attraverso la frutta e la verdura, per esempio. Anche quelle acque, quelle idratazioni. Quelle acque, quelle idratazioni, però è poco contro rispetto a quello che dobbiamo bere. Una corretta abitudine è quella di bere 2-3 bicchieri di acqua al mattino. Ricordiamoci anche un'altra cosa, che bere acqua aumenta il dispendio calorico. Perché noi introduciamo acqua a 15 gradi, 10 gradi. Il corpo ne ha 37, 36 e mezzo. Quindi per regolarizzare la temperatura di quest'acqua, il corpo tende a consumare calorie, aumenta la termogenesi. Quindi tra parentesi non ci fa incrassare bere di più. Tra parentesi, non è detto che si beve e si dimagrisce. Assolutamente no. Però aumentare la termogenesi significa aumentare il consumo di qualche calorie in più al giorno. Bere. Quindi questo potrebbe essere il consiglio numero uno per contrastare la ritenzione. Consiglio numero uno è circa 50 ml di acqua per chilo corporeo. Quindi potremmo calcolare un bicchiere d'acqua ogni mezz'ora? L'ideale sarebbe sorseggiare 3-4 sorsi poche spesso. Quindi poca acqua da dare sempre in modo continuativo durante la giornata. E non arrivare mai al messaggio in cui ho sete. Lì vuol dire che già abbiamo fatto danni. Danni senza che muoia nessuno. Però non bisogna mai arrivare al punto di dire ho sete. Cosa importante per vedere se si ha un buon stato di idratazione, vedere il colore delle urine. Se è troppo gialla, si è disidratati. Se è troppo bianca vuol dire che abbiamo bevuto tanta acqua, tutti insieme, come è stata bevuta e così è stata eliminata. Quindi il colore giusto è un giallo paglierino. Dottor Cusenza, acqua minerale, acqua frizzante, acqua naturale, a temperatura ambiente? Approfitto perché magari uno può pensare che... Fondamentalmente acqua naturale, acqua frizzante, l'unica differenza è la presenza di anidride carbonica, che non dà problemi. Se uno ha problemi di gonfiore, con irritate e quant'altro, o reflusso, il gas, l'anidride carbonica può essere un problema. Acqua fredda o temperatura ambiente? L'acqua fredda aumenta la termogenesi, quindi aumenta il consumo calorico in più rispetto all'acqua a temperatura ambiente. però c'è anche dire che l'acqua fredda, se uno è molto accaldato, potrebbe fare male. Potrebbe dar fastidio. Quindi la verità sta sempre nel mezzo. L'acqua a temperatura giusta. In buon senso. Un'altra curiosità. Ecco, dal punto di vista dell'alimentazione, come possiamo contrastare la ritenzione idrica? Bella domanda. Allora, oltre a bere in modo adeguato, un'altra cosa importante è il carico glicemico degli alimenti. L'indice glicemico è la capacità di un alimento di alzare la glicemia. Più è bassa, meno alza l'insulina e meno danni si fa. E anche per quanto riguarda la ritenzione funziona nello stesso modo. Cibi a bassi indici glicemi, quindi cereali, roba integrale, multicereali, e non dare scariche di zuccheri che alzano la glicemia, tutto questo zucchero in circolo trattiene anche acqua poi. Perché ricordiamo che ogni grammo di carboidrati trattiene 3 o 4 grammi d'acqua. E quando si arrivano a questi grossi boli di zuccheri, li trattiene nella parte sbagliata del corpo, quindi nella parte interstiziale, non nella cellula. Altra cosa importante, aumentare la massa muscolare. Aumentando la massa muscolare, oltre ad aumentare il dispensio energetico, aumenta il trasporto di acqua all'interno della cellula, perché la cellula è ipertrofica. Quindi la toglia dalla parte interstiziale, dalla parte extracellulare, la porta all'interno della cellula. Allora, facciamo un esempio. Questa mattina abbiamo fatto colazione, magari pane, un velo di burro, un po' di marmellata. Adesso intorno alle 10 abbiamo, come dire, la necessità di prendere un caffè con i colleghi, quindi caffè con un po' di zucchero e lo snack, perché viene il cosiddetto buco allo stomaco. Facciamo bene? Abbiamo fatto male? Sbagliate sia la colazione che lo spuntino. Fondamentalmente, perché come dicevo l'altra volta... Bocciate in alimentazione questa mattina. Come dicevo l'altra volta, la colazione è sempre meglio farlo con qualcosa di più proteico, e non con fette biscottate e marmellate, che tendono già dal mattino ad alzare troppo glicemia e insulina. Proteico che cosa si intende? Può essere anche uno yogurt greco. Bene. Possono essere anche un uovo strapazzato, un pancake fatto con albume, un po' di farina a basso di G, quindi farine 2, farina di avena. Ma dal mattino preferibile frutta secca, frutta, non lo snack, il caffè anche. Io eviterei personalmente lo zucchero proprio bianco, lo eviterei. Quindi se uno ha un buon caffè e lo assapora senza zucchero, si rende conto che il caffè ha un altro sapore. Quindi è questo snack mattutino. Lo snack mattutino è un fondamentale. Si alza l'indice glicemico e... Si fa solo danni. Facciamo solo danni. E' preferibile mangiare qualcosa di con più grassi, tipo frutta secca. Anche la frutta, un altro yogurt, ma non lo snack, sai. Sentivo dire sempre che alcune pazienti che mangiavano a metà mattina i pavesini perché sono leggeri, sì. Sono leggeri come peso, in mano sono leggeri, ma a livello di composizione bromatologica fanno solo danni. Quando leggiamo l'etichetta a proposito dei pavesini, li vediamo belli esteticamente, leggeri, hanno un buon sapore, poi andiamo a leggere l'etichetta... Farina, zucchero, e acqua, e un po' di uovo, basta. Fondamentalmente sono tutto farina e zucchero. Molto dolci. Molto dolci e non sono salutari. Potremmo però... Ogni tanto magari... Ma sì, ogni tanto, come tutte le cose, la verità sta nel mezzo. Ogni tanto va bene, ma se ogni giorno lo spuntino deve essere i pavesini, non è il massimo. Bene. Allora, abbiamo dato delle indicazioni, immagino, molto utili e semplici per i nostri telespettatori e le nostre telespettatrici. Abbiamo visto anche in sovraimpressione la mail alla quale potete scrivere per avere informazioni e perché no, per porre le vostre domande. dr.cusenzasalvatore.gmail.com Vogliamo aggiungere qualcos'altro, dottor Cusenza? Sì, ogni tanto mi viene da ricordare che se dovete perdere peso o qualsiasi altra patologia o anche il solo perdere peso, bisogna affidarsi a chi lo fa di professione. Non, sai, c'è sempre la moda di qualche catena, network marketing che propina prodotti senza sapere neanche il paziente cosa abbia. Se ha un problema di tiroide, non ce l'ha. ma soprattutto gente che non sa cosa fare nella vita si mette a vendere prodotti dimagranti. nella loro mente dimagranti in realtà prodotti semplicemente costosi che fanno dimagrire il portafoglio, quello sì. Fanno dimagrire il portafoglio ma poi fondamentalmente non hanno nulla di particolare. Però sai, i soldi fanno gol a tutti e vediamo questi network marketing di varie aziende con gente che veramente non sa neanche di cosa parlano. improvvisata. Improvvisata. Ma non improvvisata, peggio. Veramente non sa cosa dire. Giusto un'altra, appunto, diceva che è importante se si vuol perdere peso, tornare in forma o se si hanno appunto anche alcune patologie legate a questo, di rivolgersi ai professionisti del settore. Hanno fatto una dieta a me? Posso passarla a mia sorella, a mia madre, a mia zia, alla mia amica? Beh, forse 50 anni fa sì, adesso siamo arrivati a un punto, ma non funzionava. Adesso siamo arrivati a un punto con i vari esami di bioimpedensimetria, termografia da contatto, dove anche due gemelli hanno due metabolismi diversi e probabilmente uno può avere un conretato, l'altro no, quindi non può andare bene neanche a due gemelli la stessa dieta. Perfetto, quindi siamo arrivati a una precisione talmente alta che l'alimentazione come tutte le cose sono ad persona e non la catena di Sant'Antonio nel tuo rimarco è tutto uguale per tutti, dal bambino al nonno. Esatto, quindi ad ognuno la sua alimentazione. Ovviamente sì. Bene, grazie per la chiarezza, grazie per la disponibilità, grazie al dottor Salvatore Cusenza per essere stato con noi, la salute vi è mangiando, questo spazio lo ritroverete sui nostri canali YouTube. Grazie, buon lavoro. Buongiorno a tutti. Linea alla regia, sigla e poi di nuovo insieme. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.